Vi canteremo una notissima, la strocca che è portata al successo del cantatore Angelo Bambuardi alla fine degli anni 70. La parte musicale è basata sul canto tradizionale Bambuardi alla fine degli anni 70. La parte musicale è basata sul canto tradizionale Bambuardi alla fine degli anni 70. La parte musicale è basata sul canale mio padre comprò, che bebe il bastone che vinciò il cane, che mosse d'atto, che si mangiò il trovo, che ha il mercato, mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò, che bebe il bastone che vinciò il cane, che mosse d'atto, che si mangiò il trovo, che ha il mercato, mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò, che bebe il bastone che vinciò il cane, che mosse d'atto, che si mangiò il trovo, che ha il mercato, mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò, che bebe il bastone che vinciò il cane, che si mangiò il trovo, che ha il mercato, mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò, che bebe il bastone che vinciò il cane, che si mangiò il trovo, che ha il mercato, mio padre comprò. Alla fiera dell'est, per due soldi, un topolino mio padre comprò.